Come è stato l'evento? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Racconta la tua esperienza. È andato molto bene, mi è piaciuto anche perché è una cosa che non avevo mai fatto e all'inizio era un po' difficile parlare davanti a tutti, soprattutto nel primo debate, ma poi è stato molto bello. Ok, qual è stata la cosa più difficile nel preparare questa serata? Sicuramente un po' memorizzare il tutto, ma anche sapermi esprimere in maniera corretta davanti agli altri. Quindi l'ansia di stare davanti al pubblico come l'hai vissuta? All'inizio c'era un po', però successivamente quando inizio a parlare non la sento più.